Procedi in direzione ovest Eccolo! Dai muoviti! Buongiorno! Siamo sempre con Adri che sta leggendo lo script e si va in un'altra esterna c'è anche Forna Buongiorno my friend La destinazione si troverà sulla destra Boom! Arrivato! Oggi c'è anche Lele con noi Tu sei pronto? Io sono sempre pronto Forna Oggi andiamo a intervistare Vanni Oddera Anche Vanni intrattiene i bambini malati Lo fa in questa maniera qui Un'altra persona che sicuramente ha già il suo posto prenotato su In Paradiso Ciao Vanni, sono Andrea della produzione di Detto Fatto Grazie C'è giusto una chiacchierata Quante domande più o meno Più distanti però dovete stare Vai! E siamo qui con Vanni Oddera È stupendo quando vedono le famiglie Il proprio bimbo che si sta divertendo Per loro un traguardo enorme Vanni, io oggi sono qui a nome di tutta la squadra di Detto Fatto Per consigliarti un premio Grazie Bello Secondo me Andiamo a mangiare? Vai! Dai! Meglio qui o la mensa Rai? Ovviamente la Rai manca Tutti questi loghi sulla moto sono da coprire Mi è appena venuta in mente un'idea malsana Ma se usassi questo per fare le riprese Parti tipo che sei così Lui arriva Arriva più veloce Potrei anche azzardare quel salto lì Vero eeroe della nostra vita Grazie Ottimo Esterno finito E via Si torna a casa ragazzi Ciao Barbara Ecco Ciao Solo per sapere se eri contenti Sarà andato tutto bene Fornaroli mi ha detto rapidissimo Mi sono emozionato anch'io se devo essere sincero Buon rientro Buon riposo Un bacio a tutti Grazie Barbara Grazie a tutti Ciao Ciao Ciao